Con l'accusa di rapina aggravata, la polizia ha catturato a Vittoria due pericolosi rapinatori seriali. Le manette sono scattate per Daniele Ficicchia, di 25 anni, e Ignazio Rimaudo, di 24, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio. Insieme, dal 2010, hanno portato a segno diverse rapine in banca fra Comiso e Vittoria. Le indagini sono partite cinque anni fa, quando, nell'arco di poco più di due mesi, furono registrate ben quattro rapine negli istituti di credito del Ragusano. La prima banca ad essere presa di mira fu l'Agenzia di Comiso del Banco di Sicilia, cui i malviventi minacciarono i dipendenti, ma non riuscirono nell'intento di portare via il denaro. La seconda banca colpita fu invece l'Agenzia di Comiso della Banca Popolare di Lodi, dove i due riuscirono a impossessarsi di circa 6.000 euro in contanti. Seguì poi un'altra agenzia di Comiso, dove portarono via 13.000 euro in contanti, poi la banda si spostò a Vittoria, dove colpirono questa volta l'Agenzia 1 del Monte dei Paschi di Siena, di Piazza Italia, per un bottino di 8.000 euro. Fu in questa occasione che i due, insieme ad un complice, vennero arrestati in flagranza di reato, mentre parte della refurtiva venne recuperata in casa di uno dei rapinatori. I due sono stati quindi condannati a tre anni di reclusione, multe per migliaia di euro e l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni. Il maltempo continua a creare disagi in Sicilia. Nell'Agrigentino in particolare ci sono ancora 29 famiglie, che non possono rientrare in casa per colpa degli smottamenti che hanno provocato frane dai costoni rocciosi del Viale della Vittoria, di via Matteo Cimarra, nella zona di Spina Santa e dalla parte a monte del villaggio Mosè. Le famiglie si sono appoggiate così nelle seconde abitazioni di San Leone, mentre altre hanno trovato spazio nelle case di parenti e amici. L'evacuazione disposta in via precauzionale sarebbe dovuta durare 24 ore, ma dal momento che alcune famiglie sono già lontane da casa da ben sei giorni, si fa sempre più concreto il terrore che i termini dello sgombero si prolunghino ulteriormente. Intanto lunedì si terrà il vertice in comune, vertice che sarà preceduto dai necessari sopralluoghi da parte dei tecnici nelle aree cosiddette a rischio. Per avere la certezza che i costoni non rappresentino più una minaccia, però è necessario che finisca di piovere. Alcune ore di tregua dal maltempo si sono già registrate nella giornata di venerdì, ma gli interventi dei vigili del fuoco, della stradale, della protezione civile e della polizia municipale non si sono mai fermati. I pompieri sono intervenuti in piazza Ravanusella per una caduta di intonaco. La stradale ha operato nella statale 640, dove a causa di buche e dissesti sono stati almeno una decina gli incidenti autonomi. Disaggia la circolazione stradale anche per lo smottamento di terreno e arbusti in via caduti di Marzabotto. Intanto sulla Palermo-Catania è stato riaperto al traffico il tratto di autostrada in direzione Catania tra Caltanissetta ed Enna, che era stato interrotto a causa di una frana. Gli operai dell'ANAS hanno lavorato per un giorno e mezzo, riuscendo a pulire il tratto autostradale dai detriti e mettendo in sicurezza il costone roccioso. Comunica. Cotice 2-0-2 in atto sul Palermo 98. Prende in appoggio anche alla me. Ok, vi... Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Il PD è il mandante morale del governo Crocetta e sta assumendo nei fatti e nei volti il vecchio sistema di potere che ha governato la Sicilia negli ultimi 30 anni. Sono le parole con cui Erasmo Palazzotto, deputato di Selle, ha presentato a Palermo insieme all'ex responsabile dell'area Civati in Sicilia, Valentina Spata, il documento dei non più disponibili. Si tratta di circa 600 esponenti dell'area di Civati che hanno deciso di dire addio al partito per stringere l'occhio a Selle. I nomi dei firmatari del documento, i ribelli civatiani e di Selle, insofferenti nei confronti del partito siciliano, hanno annunciato così quella che sarà una nuova alleanza di opposizione al governo Crocetta. Chi lancia la Leopolda siciliana dicendo che non ha responsabilità nel governo Crocetta sta cercando di attuare una strategia di distrazione di massa, ha aggiunto Palazzotto, riferendosi all'evento organizzato da Davide Faraone e in programma per sabato e domenica all'ex fabbrica Sandron di Palermo. E all'affermazione di Faraone, secondo cui il PD si trova nelle stesse condizioni di quando Berlusconi ha fatto il 61-0 in Sicilia, Palazzotto ha risposto dicendo che alcune di quelle facce sono le stesse che oggi occupano spazi all'interno del PD. Tutte parole, secondo il deputato di Selle, che potranno essere confermate alla Leopolda. Lì, dice, troverete nelle seconde e terze file quelli che hanno governato con Cuffaro e Lombardo. Intanto, attraverso il suo blog, si fa sentire anche Pippo Civati che bolla il caso Sicilia come il più classico dei fenomeni trasformistici che nell'isola si sta manifestando in una delle sue forme più esasperate. È stata presentata alla Bottega 6 dei Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, il progetto del pittore palermitano Francesco Anastasi, La Vucceria, un racconto su tela di 40 metri quadrati tra ieri, oggi e domani. Presenti alla conferenza Personalità Politiche del mondo della cultura e dell'arte, le quali hanno tutte firmato la tela per dare il via ufficialmente al progetto. L'ispirazione dell'opera che sarà destinata al comune per essere fruibile da tutti i palermitani e non solo è nata dalla delusione dell'autore nell'osservare il degrado in cui versa oggi il famoso mercato storico palermitano abbandonato a se stesso e, come è solito fare con i soggetti delle sue opere, l'artista vuole raccontarne il passato, il presente e il futuro. La passione di Francesco Anastasi per il disegno, la pittura e l'arte è nata sin da bambino, evolvendosi sempre di più nel tempo, subendo le influenze dei grandi artisti come Giorgio De Chirico, Pablo Picasso, Salvador Dalì e Renato Guttuso. Pittura metafisica è dei colori forti e brillanti quella di Anastasi, che ama appunto definirsi imbrattatore di colore, colore che per l'artista è la rappresentazione della gioia di vivere, forte il legame dell'autore con la sua terra, i cui luoghi sono stati più volte soggetti dei suoi dipinti e che sono continua fonte di ispirazione. Fondamentale è dunque la voglia di rappresentare la sicilianità e creare un ponte tra presente, passato e futuro. Attore e scrittore palermitano di grande caratura, Pino Caruso torna a Palermo con Non si sa come, il testo pilandelliano nella nuova edizione prodotta dal Teatro Biondo Stabile di Palermo in scena fino all'8 marzo. Ad affiancare Pino Caruso in veste di regista e interprete un cast di brillanti colleghi, conosciuti e apprezzati in teatro, in tv e al cinema, tra cui Giussi Cataldo, Alessio Di Clemente, Emanuele Amuni e Roberto Burgio. La vicenda ruota intorno alla figura di Romeo Daddi, protagonista serio e rispettabile, innamorato della moglie e buon amico di Giorgio Vanzi, che cade inspiegabilmente nella tentazione di tradire entrambi con Ginevra, amica di famiglia e moglie di Giorgio. Un gesto istintivo, come spiegherà lo stesso Romeo, non dettato da alcun sentimento, è apparentemente inspiegabile. Le scene curate dal palermitano Enzo Venezia e definite dallo stesso Caruso un piccolo capolavoro, faranno da sfondo alle contorsioni psicanalitiche dei personaggi. Complessità mentale e psicologica saranno protagoniste indiscusse delle ossessioni di questi protagonisti, scissi in un doppio io, che Pino Caruso affronta in chiave psicanalitica, immaginando che Pirandello possa essere stato un paziente di Freud, il quale a sua volta potrebbe essere un personaggio pirandelliano. In altre parole, spiega Caruso, mentre Pirandello è freudiano, Freud è pirandelliano. Ti rendi conto che alcune sue commedie avrebbe potuto scriverle proprio Freud, come alcuni trattati di psicanalisi avrebbe potuto concepirli Pirandello. Per info su costi e prenotazioni contattare il numero 091-7434-341 o visitare il sito www.teatrobiondo.it La bottiglietta della Coca-Cola spegne 100 candelina. Nata esattamente un secolo fa da una società dell'indiana, si dice che la sua forma si è ispirata alla sex symbol Mewest ed è stata disegnata in un momento in cui il colosso dell'esode voleva rafforzare il proprio marchio per difendersi dalle copie. Da qui l'incarica ad alcune società di vetro americane disegnare una bottiglietta così particolare da essere riconosciuta al buio o per terra anche se in frammenti. Il prototipo risale al 1915, una trentina di anni dopo la commercializzazione della bibita. Inizialmente scartato perché ritenuti inadatto alle macchine in bottigliettrici, questo prototipo espirò lo stesso alle forme della bottiglia definitiva che entrò in commercio l'anno successivo. I festeggiamenti dureranno tutto l'anno con un susseguirsi di campagne pubblicitarie in più di 100 paesi con protagonisti del calibro di Elvis Presley, Marilyn Monroe e Ray Charles. Il Museo di Arte di Atlanta ospiterà una mostra a tema. Si tratta di un viaggio in 100 oggetti incluse 15 opere di Andy Warhol e più di 40 foto ispirato che ritraggono la bottiglietta. Proprio Warhol pronunciò una delle frasi storiche sulla Coca-Cola. Quello che è fantastico di questo paese è che qui è iniziata la tradizione per cui i consumatori più ricchi acquistano essenzialmente le stesse cose di quelli più poveri. Si può guardare la televisione e vedere la Coca-Cola sapendo che il presidente beve Coca-Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola e che tu puoi bere Coca-Cola. Una coca è una coca e nessuna quantità di denaro può far avere una coca più buona. Dalla musica politicamente impegnata degli anni 70 le sonorità popolari siciliane e sudamericane è questo il percorso musicale della cantante palermitana Francesca Martino e del chitarrista Gaetano Perricone che dall'esperienza di ricerca musicale del folk studio di Palermo si ritrovano oggi insieme alla più giovane flautista Romana Musso nel progetto dell'albero del canto. Un trio che spazia dal folk siciliano a quello sudamericano alternando brani come Canzone Arrabbiata di Nino Rota colonna sonora del fortunato film d'amore e d'anarchia diretto nel 1973 da Lina Bertmuller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato ad altre canzoni note di Tochigno oppure La ballo di Livirgini di un anonimo siciliano è Abba Nera tratta da Carmen di Bizet il loro recita l'intitolato Per passione è andato in scena al circolo artistico di Palermo fondato l'11 maggio del 1882 che ha sede in via Marinaia e Aliata oggi è presieduto da Fabrizio Franco e ha lo scopo di dare impulso all'attività artistica cittadina d'intesa con il conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo e sotto la direzione di Elvira Italiano Maiorca cantante lirica che al Bellini è stata anche docente Allora il nostro obiettivo è quello proprio di abbattere diciamo le barriere tra i vari generi di musica cioè musica popolare musica colta Kikovo un amore Se ad inizio stagione avessero detto entrambi che alla vigilia della venticinquesima giornata si sarebbero trovati rispettivamente a 33-27 punti probabilmente avrebbero storto il naso eppure il lavoro ha ripagato i sacrifici di due allenatori che al contrario di tanti colleghi più affermati hanno conquistato il palcoscenico del calcio che conta dopo anni di gavetta seppur figli di percorsi tra loro differenti Beppe Iachini allenatore del Palermo e Maurizio Sarri tecnico dell'Empoli e prossimo avversario del Rosane nel campionato trovano nell'arcottezza tattica e nella cura maniacale dei dettagli uno dei punti di contatto i due allenatori protagonisti fino a ora di un campionato di massima serie al di là di ogni più rossi aspettativa si incroceranno domani al Barbera dopo la sfida dell'andata terminata con un rotondo 3 a 0 in favore dei toscani il match in terra siciliana metterà di fronte non solo due squadre ma quelle che al momento rappresentano le vere rivelazioni del campionato inutile nascondere dunque che dietro l'esplosione dei rispettivi collettivi non ci sia la mano di allenatori preparati arrivati al calcio vero forse con qualche anno di ritardo sia Iachini che Sarri hanno dovuto superare numerosi scogli prima di poter fare il salto definitivo nella massima serie il tecnico rosanero mediano di spinta da giocatore specialista in promozioni dalla serie B da allenatore prima dell'opportunità offerta gli dal Palermo aveva infatti visto l'A solo dalla finestra con le brevi e poco soddisfacenti esperienze sulle panchine di Chievo Brescia e Siena domani è l'ora del riscatto soprattutto per Beppe Iachini che dopo la sconfitta dell'andata ma dopo la sconfitta di Roma con l'Olimpico vuole tornare alla vittoria il trapani beffato al 45esimo del secondo tempo quando la partita sembrava ormai chiusa sullo 0-0 risultato che rispecchiava comunque l'andamento della gara quando Gatina si è accontentato del pareggio casalingo è arrivato però il rigore fischiato da Fabri per un fago di Cardala su Sol entrò nella fase finale del secondo tempo un rigore che Fabri ha concesso con troppa generosità doveva arbitrato comunque una buona partita una sconfitta molto pesante per i granata perché immeritata anche nel secondo tempo infatti la sfida è stata equilibrata con due squadre che non hanno mai usato più di tanto giocando a corte e senza lasciare spazza agli avversari il tapani sentiva già il punto in tasca che avrebbe comunque fatto classifica i gradi sono stati comunque più pericolosi nel primo tempo rispetto al secondo che ha registrato tanti errori da una parte da Garta per la reciprocazione di pressing su chi giocava la palla le sostituzioni operate da Boscaia sono state tattiche per tornare in alto ritmo Falco al posto di Basso non è stata convincente come in altre partite Feola al posto di Abbate aveva soltanto il compito di far trascorre il tempo per arrivare alla fine della partita mentre la sostituzione di Zampa con Malere è stata soltanto la mossa della disperazione perché l'attaccante di Granate è entrata al 27esimo del secondo tempo Gomis non è riuscito a fare il miracolo perché Viviani ha tirato il rigore con grande coraggio facendogli il cuccaro alla Francesco Totti del resto Viviani è un prodotto del settore giovanie della Roma Misure di sicurezza al massimo livello per la doppia manifestazione di oggi a Roma previsto un comizio del leader della Lega Nord Salvini e contemporaneamente la manifestazione degli attivisti del cartello Maicon Salvini e dopo i disordini di ieri intorno a Piazza del Popolo il prefetto di Roma Pecoraro assicura non ci saranno incidenti si indaga sull'omicidio a colpi di pistola ieri in centro a Mosca di Boris Nemtstov 55 anni uno dei leader dell'opposizione a Putin il presidente russo ha condannato l'agguato assicurando che il cremlino vigilerà sulle indagini Mosca faccia piena luce e chiede la Casa Bianca svelato dai servizi segreti britannici il volto del boia dell'ISIS soprannominato Jihadi John si tratta di Mohammed M. Wazi un 27enne londinese di origine kuwaitiane intanto nuovo orrore a racca in Siria i jihadisti hanno lanciato dai tetti e lapidato alcuni omosessuali proseguono i contatti tra gli Stati Uniti e Cuba in vista della ripresa delle relazioni diplomatiche sono stati fatti buoni progressi ha commentato la delegazione cubana la riapertura delle ambasciate a Washington e l'Havana potrebbe avvenire entro aprile spread sotto i 100 punti e previsioni di crescita positive dopo tre anni di crollo trascinano la fiducia dell'economia italiana ieri l'Istat ha previsto che il PIL del primo trimestre del 2015 crescerà dello 0,1% i segnali di ripresa grazie al greggio ai minimi e al nuovo intervento della BCE che svaluta l'euro aiutano il nostro export Chievo Milan apre oggi il 25esimo turno di Serie A che presenta come fiori all'occhiello lo scontro scudetto di lunedì Roma-Juventus tutte le gare però inizieranno con 15 minuti di ritardo in segno di solidarietà per la situazione del Parma il cui match col Genoa è stato rinviato Grazie a tutti